Ragazzi buonasera e bentrovati nel mio canale, questa volta non si tratta di un ospite, non si tratta di un'intervista questa volta non si tratta di nulla che possa essere attinente alla musica e al mondo degli artisti questa volta andiamo a costruire una teca come quella che vedete lì dietro, in quel caso è bilivello ne ho un'altra nell'altro lato opposto al televisore e l'andremo a costruire con pochi euro rispetto a quello che realmente poi possa costare una teca prefabbricata restate con me, andiamo a vedere come l'ho creata ragazzi io lo faccio questo perché sono veramente entusiasta del risultato e ci tenevo a condividere questa cosa con i miei amici amanti del modellismo, del collezionismo nonché con ragazzi che magari così random stiano cercando qualcosa attinente alla teca online e magari con questo spunto possano creare qualcosa di interessante anche nella loro casa non ci vuole un gran che partiamo da questo fatto, queste sono mensole prodotte da Ikea mensole a scomparsa che si chiamano LAK, quindi L-A-C-K sono lunghe 110 cm e profonde 26 cm ora spiegatemi com'è possibile che una formica singola si stia così addentrando in questa scalata non capisco, vabbè, da dove possa essere venuta la mia operazione è stata quella di metterne una, quindi la prima intanto il vento fa cadere cose mettere la seconda e installare la terza la terza qui su volevo darvi una piccola dritta voi cercate comunque di mantenere una distanza equa qualsiasi cosa, se dovesse andar storto qualcosa, dovrete fissare almeno bene questa intendo con 3 stop, 3-4 stop se necessario per dargli un po' più di forza, quindi sull'ultima, quella che reggerà poi tutto il peso e su questa centrale, e ovviamente, ora vi dico anche sopra, però su questa centrale potete lasciarla un po' più blanda nel senso con degli stop messi un po' più lenti, in modo da fargli fare un lavoro tipo tappo che ora non vado ovviamente a muovere, però questa è lievemente basculante in modo da potersi adattare in automatico sul plexiglass sotto spero di essermi spiegato considerate che quella sopra, ad esempio, non è proprio avvitata è semplicemente appoggiata questo, se andrete a sostenere, è un peso relativo spero di essermi spiegato, ma qualsiasi cosa potrete scrivere nei commenti tutto ciò che vi possa essere in qualche modo sfuggito oppure che io stesso, ovviamente, possa aver spiegato alla cavolo di cane, come si dice qua a Roma qui stiamo vedendo 26 cm di profondità in questo caso sul lato destro e poi andremo a vedere il lato sinistro eccolo giù in fondo io ho scelto 29,5 cm l'altezza del plexiglass questa si chiama pistola termica è l'attrezzo che ho utilizzato per piegare il plexiglass ce ne sono di varie marche io ho preso la più economica considerate che raggiunge delle temperature molto elevate e si rischia di farsi male fatevi assistere quando la utilizzate togliamo quindi la plastica protettiva questo per non danneggiare poi il plexiglass al momento che raggiungerà delle temperature elevate per piegarsi come vedete questa pistola termica ha varie opzioni di temperatura io ho scelto di rimanere a metà ma considerate che con una buona capacità di utilizzo potrete mettere anche al massimo l'importante è non soffermarsi neanche per un secondo sullo stesso punto cercate di scaldare omogeneamente la parte ed evitare assolutamente che la parte si surriscaldi a tal punto da creare delle bolle delle bolle insomma delle buche stavo dicendo vabbè insomma dovete stare attenti a non rovinare il plexiglass ragazzi perché basta veramente poco per creare degli aloni delle pieghe dei buchi delle bolle d'aria e squagliare così un materiale davvero costoso e grazie appunto alle temperature molto elevate che raggiunge questa pistola termica noterete come il peso stesso del plexiglass lo costringa a scendere piano piano creando così la piega ovvero in questo caso la curva una piccola premessa ragazzi potrete utilizzare un tavolo magari da lavoro e non come ho fatto io arrangiandomi così con una tavola di un pannello fonoassorbente per poter creare un angolo perfetto di 90 gradi se volete potrete costruirvi un blocco di legno apposito per creare appunto questi angoli allora vi ho risparmiato per essere più veloci l'installazione delle mensole vi ho risparmiato anche come si posiziona il plexiglass che una volta piegato va preso e appoggiato e qui siamo al risultato finale dopo aver installato dei led nel mio caso avevo quelli disponibili di un vecchio monitor di line studio quindi li ho tolti dal monitor dietro e li ho utilizzati per queste teche ma potrete installare qualsiasi tipo di led vogliate allora la premessa da fare è quella di fare molta molta attenzione alla distanza tra le mensole nel senso prendete bene bene le misure cercate di fare il buco con il trapano dritto altrimenti basterà qualche limitro per farvi sfalsare tutto il lavoro e arrivare poi a fare quel giochetto che vi ho detto di allentare la mensola centrale e ora finché ripeto finché la carichiamo con degli oggetti di un peso relativo come possono essere i miei lego perché qualora magari andassimo a caricare con degli oggetti pesanti questa cosa potrebbe essere molto molto rischiosa sia per eventuali bambini che insomma girino per casa e sia per eventuali oggetti molto particolari costosi che possano danneggiarsi una volta crollato tutto ok quindi fate molta attenzione a questo dettaglio o per l'utilizzo della pistola termica mi raccomando se non siete esperti cercate di farvi assistere da qualcuno che sia magari più pratico di voi o un genitore o un qualcuno che possa essere magari più accorto su determinate appunto precauzioni da prendere ok questa lunga premessa soltanto per dirvi questo se vi va iscrivetevi al canale in genere tratto anche altre cose come se volete sono anche su altri social networks come instagram basta seguire insomma i link che metto sotto ogni video insomma ok grazie ragazzi ciao o qualsiasi cosa scrivetemi viene un bel lavoretto impegnatevi viene un bel lavoretto ciao